ciao ragazzi e ragazzi volevo farvi vedere dopo avermi fatto vedere il kit della lambri il catalogo allora ecco qua questo è il catalogo ora vi farò vedere diciamo che come allora noi abbiamo solo un catalogo ogni mese ci mandano le offerte di prodotti che escono perché comunque cambiano di continuo cioè ci sono delle offerte ci sono dei prodotti nuovi e l'azienda ce lo fa sapere però il catalogo è sempre è sempre uno allora questa è la macotina allora ci sono delle linee di crema questa linea si chiama evermating line allora è infatti i dettagli sono molto più avanti e le andiamo a vedere un attimo ecco qua sarebbe questa linea qua allora ed è per pelli grasse e miste abbiamo un acqua miscellare per la detersione del viso di 120 ml rimuove perfettamente il makeup dal viso e dagli occhi deterge la pelle dalle impurità e tonifica la pelle costa 8 euro e 50 poi abbiamo la crema notte nutriente che si dopo l'applicazione della crema che risulterà luminosa questo questa crema notte protegge la delicata zona del contorno occhi infatti con l'estratto di cassia che crea un effetto drenante che aiuta a dimenticare il gonfiore sotto agli occhi a questa sarebbe una crema nutriente viso conto e viso e contorno occhi ed ideale per la cura della pelle grassa e mista e costa 15 e 65 poi abbiamo la crema opacizzante viso allora questa qua è da 50 ml questa pure da 50 ml è ideato per le pelli grassi miste aiuta a rimanere la la pelle fresca 24 ore e c'è l'estratto di plankton che aiuta a ripristinare l'essacità della pelle la rimozione dell'eccezzo di sebo e a prevedere la comparsa di processi infiammatori infiammatori l'estratto di corteccia aiuta poi a chiudere i pori e a regolarizzare la produzione del sebo allora dal kit che avete visto per esempio non ho avuto tutti i tipi di campioncini di questa qua non vi posso dire c'è gli inci come sono di questa airman team line avendo già visto le creme di campioncini posso dire che i prodotti sono davvero accettabili allora torniamo quindi alla prima pagina poi abbiamo i profumi questi sono i profumi che poi io ho ordinato proprio il catalogo dei profumi quindi magari farò proprio il video dove vi farò vedere proprio tutti i profumi specifici ora ve li faccio vedere come sono da catalogo in poche parole però ci sta proprio un catalogo apposta per ogni profumo queste sono dei profumi da donna tipo 25 fragranze tutte a piacere cioè dice con troverete il vostro vero profumo e lo scrigno magico dei profumi diventerà la piccola chiave della vostra immaginazione devono essere belli questi profumi poi qua abbiamo fragranze femminili fragranza fruttata per esempio floreale orientale qui sono tutti i profumi questi sono i profumi da uomo questi sono sempre fragranze maschili allora questa qua è un'altra crema allora questa qua è un siro di ringiovanimento fatto in capsule ed è fatto in poche parole un vero lisir di giovinizza comprende una gamma di oli naturali vitamine e aminoacidi allora aiuta la pelle per un utile la idrata e la nutre infatti barattoli il packaging è stupendo e questa sta allora il serum sta 18 e 95 30 capsule invece il coesime q10 che coinvolto nella respirazione cellulare fornisce una protezione efficace contro radicali liberi protegge le cellule dagli effetti dagli effetti d'annusi delle radiazioni uva e rallenta il processo di invecchiamento della pelle inoltre siccome contiene vitamina A migliora l'elasticità della pelle e la vitamina E che è uno di più sarebbe un antiossidante quindi migliora la circolazione sanguigna proviene la rottura delle fibre di collagene e poi c'è la vitamina F che aumenta la resistenza della pelle e aiuta tutta la sua rigenerazione e queste 30 capsule sono 19 e 25 e questa è l'intensiva allora questa qua è un'altra linea vedo che è scuro allora questa qua invece è un'altra linea aspettate accendo la luce perché vedo che è troppo buio vediamo allora questa qui è un'altra linea di crema la DNA Shotline allora di queste io tengo tutti i campioncini e posso dire che è veramente una crema davvero accettabile infatti la Lambré sotto questo aspetto di Inci mi ha molto davvero sorpresa quindi è bello a livello di creme cioè a livello di Inci è bello come packaging è bello come prodotto che è un prodotto davvero lo costo mi sta piacendo veramente tanto e abbiamo questa crema non riesco a capire perché non luce allora abbiamo la crema di ringio crema ringio ringiovanimento di 50 ml protegge la pela dall'invecchiamento e dalla comparsa delle rughe 18,50 euro poi abbiamo la crema notte che è sempre 50 ml che restituisce l'elasticità alla pelle che risulta intensamente idratata 20 e 25 e questi sono 50 ml e 50 ml poi abbiamo sempre della stessa linea il contorno occhi riduce le rughe previne l'irritazione della pelle aumenta l'elasticità 12,75 euro 15 ml poi abbiamo una specie di di effetto lifting 30 ml e allora è un complesso a base di argirellina che dà un effetto levigante alla pelle dopo un mese di applicazione le piccole rughe e imperfezioni scompaiono e sta a 18,60 euro 30 ml e questo come vi ho detto tengo tutti i campioncini quindi ho letto pure gli inci e sono abbastanza sono accettabilissimi infatti questa linea mi piace tantissimo poi abbiamo un'altra linea che si chiama Perline questa pure tengo i campioncini eppure questa mi è piaciuta mi piace e abbiamo una crema allora la Perl creme è per tutti i tipi di pelle 50 ml mantiene a lungo idratata grazie che la mantiene molto idratata grazie agli ioni di potassio di potassio e sta a 50 ml 16,35 euro poi abbiamo la crema idratante ristrutturante del contorno occhi 15 ml rimuove efficacemente le occhiaie e riduce il gonfiore e costa 11,45 euro poi abbiamo questa qua per esempio questi non ce l'avevo se non mi sbaglio i campioncini quindi non li so gli inci allora di questi due sì a posto cioè davvero accettabile quindi credo che pure questi qua perché poi è la stessa linea poi abbiamo la crema collo di coltì 80 ml 12,95 poi ci sta il il latte idratante per tutti i tipi di pelle e poi ci sta il tonico il latte idratante 7,20 e il tonico 6,85 poi abbiamo la linea TT online è stata progettata per la cura della pelle con dei problemi allora in poche parole è un antinfiammatorio regolatore della microfribba della pelle e delle ghiandole sebacee abbiamo crema gel per l'acqua contro l'acne che è fatto con un estratto di chinacera purpera antibiotico naturale calma le infiammazioni calma le infiammazioni è un potente simulatore immunitario costa 4,55 e sono 15 ml poi abbiamo questo qui questo mi ispira proprio tantissimo perché poi a me mi piacciono molto gli oli infatti ho l'olio 31 tengo tutti gli oli alla lavanda tengo tutti i tipi di oli questo è olio di tè verde australiano 10 ml è un antibatterico antinfiammatorio aiuta a una rapida guarigione per le ferite le ustioni e le lesioni cutanee sono 10 ml 6,55 perché qua ne basta una doccina quindi dura dura tantissimo poi abbiamo sempre di questa linea il TTO abbiamo questo gel detergente 120 ml sia per la pelle grazia che mista 8,50 euro poi abbiamo il tonico sempre 120 ml scusate io spero che si stia vedendo bene perché io non lo so ma è oido scuro e intanto la luce perché come al solito il tempo è così è così allora e questo è fatto all'olio di tè verde australiano e possiede delle proprietà antisettiche lenitive e rigeneranti mamma mia sono 11 minuti già allora poi abbiamo quest'altra linea olio olive online e abbiamo crema giorno lenitiva 80 ml è fatta con l'olio d'oliva si assorbe rapidamente e libica la pelle 7,20 euro poi abbiamo la crema notte potassio potassio olivo pca è un emoliente morbido è dedicato a base di olio d'oliva e due a prevenire l'esfolazione e la scrupolazione sono ottimi diratanti che rendono la pelle morbida si usa al tasso al tatto 7,20 euro poi abbiamo la crema rigenerante con tornocchi 4,25 15 ml poi abbiamo il tonico è fatto all'estratto di lavanda allieva le irritazioni e le infiammazioni 5,95 euro abbiamo il latte struccante 120 ml fatto con l'olio d'oliva e l'initivo per le irritazioni le scottature 7,85 euro dobbiamo andare un po' più veloci poi abbiamo ah questa è quella che io vi ho spiegato all'inizio quell'altra linea poi abbiamo abbiamo i doposole abbiamo alta protezione che costa 7,90 15 protezione che costa 13,35 e il doposole 10 euro e 60 poi abbiamo ah vabbè qua parla di tutta la tabella combinazioni per la pulizia cura base pelle secca pelle mista tutte queste cose qua poi abbiamo le maschere allora queste qua io ce le ho tutte e tre se non mi ricordo bene questa idra fresca mask accettabile accettabile accettabilissima questa invece per me è un nì queste due sono proprio per me accettabilissime come inci che ho letto poi magari se volete vedere proprio gli inci linci io vi faccio me li dite e ve li scrivo proprio tutti gli inci ve li faccio sapere queste sono delle maschere viso una si chiama idra idra fresca assorbent mask e grip peeling allora la prima crea allora la prima crea uno strato protettivo sulla pelle che trattina l'umidità riempie le lughe e le leviga è una maschera che assorbe molto facilmente nutre intensamente l'idrata la pelle la pelle diventa immediatamente morbida vellutata con un colore d'uso sano l'assorbent mask invece è stata creata per la pelle grassa e combinata all'uso quotidiano allora i pori si restringeranno si ridurrà la protezione del sebo non verranno acne e comedoni invece questo qui la creed peeling stimola la sintesi del collage è fatta con l'olio di jojoba la pelle si rinnova migliora la scolazione sanguigna diventa soda fresca e luminosa allora poi ci sta questa anticellulite ah questa è qua allora la mask costa 7,85 questa qua la green peeling costa 9,80 e l'assorbent mask e l'altra l'assorbent mask questa qui sa 10 e 15 ok io spero che non sta venendo oscuro il video poi abbiamo l'anticellulite abbiamo un allora un peeling un peeling per il corpo 11,75 di 150 ml e contiene delle particelle contiene delle particelle naturali di polvere d'ambra che permettono di sflorare le cellule morte e migliorare l'aspetto della pelle rendendola liscia e ben curata poi abbiamo invece un burro eccolo qui questa qua pure tengo il campioncino inci accettabilissimi questa diciamo un ni però io vi giuro sto rimanendo anche con con gli inci ve l'ho detto di questa marca perché se no vi dicevo la verità comunque io dico 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 tutto e quindi questo qua è un burrocorpo di 200 ml sta 21,60 mentre questo non mi ricordo se ve l'ho detto 11,75 poi abbiamo una crema dopo barba 7,50 poi abbiamo la crema per i piedi 4,60 la crema a mani 3,60 allora dobbiamo andare veloce se no viene un video troppo lungo questi sono dei odoranti maschili 5,20 questi sono i gel doccia abbiamo due abbiamo due da donna e uno da uomo 5,90 e sono 250 ml mentre questo qua vabbè questo non dice i odoranti qua erano 150 ml poi abbiamo questi sono i fondotinta allora il fondotinta abbiamo due marchi abbiamo il make up più 35 35 più che sta 17 65 e poi abbiamo invece il make up che ci sono questi colori e costa 12,10 euro poi abbiamo i fard questi sono i fard 7,85 euro avete visto dal video come il fard dal kit e poi abbiamo il correttore questo pure ve l'ho fatto vedere il correttore che costa 6,90 euro ci sono questi tre colori 1,2,3 poi abbiamo la cipria che avete visto dal packaging che vi ho fatto vedere il kit e poi le terre allora la cipria costa 7,85 la terra 14,05 poi abbiamo questi due di ombretti che costano 7,85 poi abbiamo la palettina che avete visto nel video il trio di ombretti che costano 8,45 poi abbiamo gli ombretti liquidi che avete visto pure questi colori e questa costa 4,95 esatto l'ombretto liquido sarebbe poi abbiamo tutte le matite abbiamo tutti i colori delle matite che costano 2,10 euro abbiamo il blu l'azzurro eccole qua tutti i colori io poi vi linko l'album sotto poi abbiamo il mascara che avete visto pure dal kit e costa 6,20 euro poi abbiamo le liner che sta in turchese in marrone e in nero e costa 5,20 euro il temperino che pure avete visto qua abbiamo i gloss che vi ho fatto vedere tutti questi colori ci sono e ci sono e costano 5,80 i gloss poi mamma mia sono mezz'ora poi abbiamo un altro tipo di rossetto questo qui non è il rossetto che avete visto nel kit sono altri rossetti questi qui e questo costa 6,80 euro questo si chiama lipstick eccolo qua pure è bello e questo è il packaging infatti è un altro packaging allora poi abbiamo la matita contorno labbra il rossetto abbiamo detto 6,80 euro le matite labbra 1,95 euro ci sono tutti questi colori poi abbiamo gli smalti questo qui è della linea Paris Flowers e stanno 6,20 euro e sono tutti questi poi invece l'altra l'altra linea sense of elegance costa 4,25 abbiamo due linee poi abbiamo altri trio di ombretti che costano tutti questi qua che costano 6,55 questo è quello che avete visto nel kit e questi sono tutti i colori e costa 5,25 questi qua poi abbiamo tutta la cura delle unghie tutte queste qua che ha tutta la cura poi ci sono i gel e poi ci stanno i profumi qua dei profumi poi ci sta un balsamo allora questo è un balsamo un burro di cacao per le labbra un balsamo labbra e poi c'è quest'altro qui che è pure un balsamo labbra questo costa 3,30 e questo qui 4,60 e niente ragazze questo è tutto questa è la